Il fronte del No vince in maniera schiacciante anche a pace del Mela. Il referendum sulla realizzazione dell'inceneritore a CSS presso la centrale termoelettrica di Power di San Filippo del Mela ha visto recarsi alle urne il 54,4% dei cittadini pacesi. Il 98,5% di loro ha espresso parere contrario alla costruzione dell'opera prevista da A2A nell'ambito del progetto di riconversione della stessa centrale che sorge in contrada a Archie. Un risultato scontato così come è accaduto a San Filippo del Mela e Gualtieri si camminò lo scorso 31 gennaio dove il fronte del No tra i cittadini che si sono recati alle urne ha toccato rispettivamente il 96,2% e il 98,3%. Secondo il comitato No inceneritore i referendum comunali hanno confermato tutte le aspettative del comitato promotore. Accanto ai risultati l'effetto più importante è la strada percorsa per raggiungerli, cioè la campagna referendaria che ha aperto le porte di ogni casa dei tre comuni interessati rendendo ancora più granitico il fronte del No. I comitati del No tuttavia proseguiranno la loro battaglia. Domenica prossima le strade di Milazzo saranno interessate da un grande corteo regionale contro tutti gli inceneritori, prevista la presenza di un nutrito e variegato gruppo di associazioni provenienti da tutte le province siciliane.